Pantere e volanti sono vetture in dotazione per il pronto intervento, nonostante ci siano ancora vecchi modelli in uso, in questo articolo vi elenchiamo tutte le auto della polizia di stato più recenti. Auto polizia di stato, i modelli recenti. Oltre alle vecchie glorie ancora in uso, le Pantere più recenti in dotazione al reparto volante sono, Alfa Romeo 159 2,4 JTDM da 200 CV Fiat Bravo 2,0 MJet da 165 CV, 2011, Seat Leon 2,0 da 150 CV, 2015, la prima straniera nella storia della polizia di stato. Alfa Romeo Giulietta Turbodiesel 2,0 da 150 CV, 2018, l'elenco si conclude con una straniera, l'ultima flotta presentata, 22 marzo 2016, è infatti composta da BMW 320 di Touring. Una curiosità, ormai da diversi anni si nota come i motori turbodiesel hanno progressivamente sostituito quelli aspirati a benzina, sia per le migliori prestazioni, come accelerazione e ripresa, sia per i consumi contenuti e l'elevata autonomia operativa. Ma ora continuate la lettura e vediamo insieme le Pantere nel dettaglio. Auto Polizia di Stato, 159, Bravo Eleon L'Alfa Romeo 159 monte il 2,4 JTDM 5 cilindri, 20 valvole, da 200 CV, con cambio manuale 6 marce M32, la velocità massima è di 228 km orari e lo scatto 0,0 Km, H, avviene in 8,4 secondi. L'auto, come tutte le volanti, presenta un allestimento speciale che agli accessori previsti di serie aggiunge blindatura parziale, vetri antisfondamento, parati a impolicarbonato e acciaio e dispositivi acustico luminosi sul tetto. Passando alla Fiat Bravo, essa monta il 1,9 e il 2,0 Ccm Jet da 150 e 165 CV, la potenza è quindi molto inferiore a quella della 159, ma il peso contenuto della vettura contribuisce all'erogazione di prestazioni equiparabili. Ci sono due versioni in dotazione, quella del 2011 con i lampeggianti dell'Alfa 159, cioè la barra rettangolare, e quella del 2013 dotata di quelli di forma ovale a LED. La straniera Seat Leon monta il 2,0 TD da 150 CV ed è dotata, tra le altre cose, di un sistema informatico che permette agli agenti di svolgere operazioni in networking e observation. Esteticamente, le volanti Leona sono verniciate come le lancia Delta dei reparti Prevenzione Crimine del 2014, abbinando la scritta. Polizia bianca sulle fiancate alla linea tricolore che va dal cofano alla parte centrale e si pone la fascia, anch'essa bianca. Autopolizia di Stato, Giulietta E320D. L'Alfa Romeo Giulietta è invece dotata del 2,0 JTDM 6 euro da 170 CV con cambio a 6 marce TCT, oltre ai cerchi in acciaio. Con borchie di plastica, sul tetto i lampeggianti, il faro orientabile e il pannello luminoso. Internamente invece c'è posto per il sistema di comunicazione Odino e la radio Marconi OTVS 3000 Tetra. Le ultime e più recenti auto in dotazione sono le BMW 320 di Turin consegnate nel 2016 alla sede del compartimento della Polstrada. Del Lazio, si è trattato delle prime tedesche dopo le uniche due 320 da 150 CV incomodato gratuito al compartimento della Lombardia, 21 anni fa. Queste ultime e Pantere 320 di Montano il turbodiesel 4 cilindri in linea 2,0cc da 184 CV, con una velocità di punta di 230 km orari. A bordo invece spicca l'apparato di videosorveglianza PNAV Tablet con l'action cam da 11,9 MP, sul parabrezza, che permettono agli operatori di essere sempre connessi, anche quando scendono dall'auto. Oltre ai classici sistemi di ancoraggio porta-arma e paletta, ci sono le prese di corrente a 12 volt e due torce a led con slitte e carica. Batterie, queste BMW rientrano nel programma di ammodernamento del parco Polstrada concluso nel 2017. Scopri anche le auto storiche delle squadre volante.